Ultimo giorno di apertura del punto vendita lucchese del Mercatone 1, che segue di poche settimane la chiusura del negozio di Alto Pascio. Il passaggio alla ditta Globo al momento non assicura certezze né sulla riapertura dei punti vendita, né soprattutto su quanti dipendenti verranno riassorbiti dalla nuova proprietà. Associazioni sindacali e amministrazioni comunali hanno aperto un tavolo in regione per discutere del futuro dei lavoratori e delle lavoratrici dei punti vendita. E ai prossimi 22 e 29 giugno è stato convocato il nuovo acquirente per iniziare le trattative. Ovviamente, aggirarsi adesso tra i corridoi e gli scaffali quasi vuoti dà il senso di quanto questa giornata possa pesare sui lavoratori del punto vendita, che hanno redatto un volantino da distribuire alla clientela per ringraziarla di quanto fatto fino ad ora. Ci sentiamo in dovere, si legge nel volantino, di ringraziare tutti i clienti che in tanti anni sono stati la nostra forza, contribuendo a far sì che il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano, oltre a soddisfare le loro esigenze, abbia dato a tutti noi la possibilità di vivere una vita dignitosa. Purtroppo, la nostra azienda è fallita per motivi che certamente non sono dipesi da noi dipendenti e per questo non ci sentiamo defalliti. Noi tutti, anche a nome delle nostre famiglie, vi ringraziamo di cuore e vi chiediamo, concludono i lavoratori, di sostenerci nella nostra lotta per poter continuare a lavorare.